Dunque passeremo dal bianco Natal al giallo Natal, questo è l'obiettivo come abbiamo capito dai giornali di questa mattina, adesso vi presento subito le aperture, siamo un po' in ritardo mentre tra poco ci sarà l'inaugurazione del terzo tratto della Pedemontana Veneta, 35 km in tutto sui 94, slitta al 2022 l'apertura totale con ovviamente il problema Covid, ma non ci sarà nessuno a quest'inaugurazione, tant'è che il governatore sarà in conferenza stampa al solito della protezione civile, lo seguiremo in diretta, ma insomma per le regole Covid ovviamente si evitano assembramenti anche dei giornalisti, dei politici, sono ben lontani i tempi in cui c'erano quattro ministri, Salvini, Stefani, Fontana, ricorderete molto bene con l'assenza di Toninelli però all'inaugurazione della Pedemontana. Qualche tempo fa il tesoretto Veneto anti-Covid perché abbiamo capito bene una cosa, se ce n'è una che fa arrabbiare il governatore Zaia è quella di dire che mancano le mascherine, mancano magari tutti gli altri presidi, i guanti e i camici. Invece oggi il Corriere del Veneto racconta un po' quello che è il deposito delle strumentazioni per arginare il Covid. Caos ristori, l'ultimatum di Zaia, questo è un dato molto interessante che è legato al fatto che siamo la famosa zona gialla plus e quindi comunque i bar hanno delle restrizioni maggiori, ci si deve sedere al tavolo dalle 15 fino alle 18 quando poi è orario di chiusura e allora bisogna capire se qua non restano fregati perché allora sarebbe veramente un paradosso. Sappiamo benissimo che c'è una parte politica, ha messo anche lo stesso Premier Conte che chiede più soldini per le attività perché ci si è resi conto che davvero ovviamente non bastano. Due ospedali Covid già pieni, ci titola invece la tribuna oggi, sappiamo dovremmo essere nel famoso plateau anche se i morti sono davvero tanti ogni giorno registrati come vittime Covid e quindi questa è la preoccupazione. Cosa manca? Va bene, vi faccio vedere anche l'apertura del piccolo di oggi e poi veniamo appunto al tema delle riaperture possibili. Questo per quanto riguarda invece il piccolo, i contagi raddoppiati in 19 giorni, questi sono i dati che presentano, tamponi ai medici di base pronti. Adesso anche il Florenza Giulia segue su questo il Veneto così come altri per raccontare appunto come si argina il tracciamento utilizzando anche i medici di base. Avanza il Parco del Mare, tre soci privati in campo, questo ne parleremo poi anche nella ring di domani sera perché avremo una piccola esclusiva con la conferenza stampa di domani mattina in diretta su Tele4, ma insomma, tra l'altro stasera ci vediamo su Tele4 alle 21. Dunque, fermate quei sindaci, vi faccio vedere che cosa, certo che ora vi arrabbierete, ma sono più di qualcuno a mettere in campo un'idea di questo tipo. Padova prepara l'ordinanza antifumo, cioè quindi dopo Cittadella, dopo l'idea anche di Trieste, persino Padova vorrebbe praticamente vietare il fumo all'esterno. Quindi voi non potete passeggiare per la città anche da soli fumandovi una sigaretta perché c'è ovviamente l'incubo Covid. Il fumo fa male, lo ribadiamo molto bene, anche quello del sigaretta elettronica, tutto, ma insomma stiamo veramente esagerando. Un conto puoi essere in dieci a fumarsi tutti addosso, creando un assembramento magari, su questo ne possiamo discutere, certo a maggior ragione in un periodo come questo, però insomma mi sembra che queste ordinanze davvero stiano un po' esagerando. Qual è lo scenario che ora ci disegnano? Che i ristoranti, i bar, insomma, potrebbe esserci una riapertura il 4 dicembre. Tant'è che qualcuno dice già è da pazzi perché poi ci godiamo il Natale, finisce come l'estate e quindi dopo arriva la terza ondata, tutto il solito scenario che comunque credo e temo che sia inevitabile perché una terza ondata è prevista in tutte le pandemie e le epidemie di questo tipo. Però potrebbe esserci qualche allentamento delle misure appunto nei prossimi giorni con l'obiettivo del giallo Natal, come dicevamo appunto poco fa. Poi tra poche ore, quindi mi pare, vabbè oggi pomeriggio con l'incontro tra le regioni e il governo, ma soprattutto domani poi quando avremo l'esito dell'esamino del compitino, ci sono i nuovi colori. Altre regioni, mi pare in particolar modo l'Abruzzo rischia di passare in rosso, non si sa la Puglia. Ma l'arancione ovviamente potrebbe riguardare ancora una volta il rischio per il Veneto che attualmente è giallo plus con questa formula studiata dal governatore Zaia. Ma ovviamente c'è un rischio di passare in arancione. In questo vertice del pomeriggio di oggi si dovrebbe ritrattare, tornare a trattare quell'idea di ridurre da 21 criteri folli a 5 che sono quelli più importanti. L'occupazione delle terapie intensive, quante aree mediche, quanto tempo ci si mette a fare il contact tracing, quanti tamponi e via dicendo. Cioè cose un po' più sensate per l'uomo della strada, come diciamo ormai da giorni e giorni. Ma il ministro Speranza l'altro giorno ha ribadito, abbiamo raccontato bene anche a Ringa, come i 21 criteri li conoscono da mesi i governatori e praticamente quelli restano. Ma vedremo che cosa emerge oggi sul fronte vaccino ancora una volta i 3,4 milioni scelti, acquistati, soprattutto Pfizer, riguarderanno come al solito all'inizio nella prima parte della campagna vaccinale gli ospedalieri, gli RSA. Cioè chi lavora in ospedale e chi è ricoverato in RSA o lavora in RSA. L'RT dovrebbe scendere sotto l'uno nei prossimi giorni e questo è un dato molto importante per aiutare anche il nostro giallo Natal, come l'abbiamo ormai definito. Cosa volevo dirvi? Poi per quanto riguarda invece un altro fronte che è quello del Benettono, oggi c'è questa lettera che riprendono un po' tutti i giornali, o meglio è una risposta a un commento del solito commento social che fa Alessandro Benettono, in cui dice io non centro niente con la mia famiglia, con quella roba lì di autostrade, però quello che abbiamo letto in questi giorni è vergognoso. Vedete, abbiamo letto cose vergognose qui dal Corriere del Veneto, ma ce l'hanno un po' tutti i giornali. Ed è l'unico della famiglia Benettono a dire qualcosa su quello schifo che stiamo leggendo ancora una volta, poi c'è l'arresto dell'amministratore d'allegato Castellucci, insomma il tema di che ha riempito i giornali in queste ultime settimane e di cui nessuno ha detto niente. Sennò Alessandro Benettono che con quella parte anche economica della famiglia, certo non è un figlio, un signor nessuno lui, quindi anche nella sua carriera può aver avuto molte più agevolazioni di altri, di me stesso, di tante persone comuni come chi ci segue, però lui con quella parte Benettono di autostrade non c'entra, però è l'unico a dire qualcosa. Ho letto cose vergognose. Chiudiamo questa parentesi dolorosissima, arriviamo alle elezioni di Trieste, oggi c'è un pezzo molto interessante, leggetevelo se avete tempo su FerdinandoVarino.it, l'ho condiviso poco fa, di Gianfranco Carbone. Davvero le elezioni a Trieste finiranno come 5 anni fa ormai, cioè con 5.000 voti di scarto, poi ci sono molte incognite, per esempio torna in campo Bandelli, riemerge diciamo solo quando c'è la campagna elettorale, ma guarda caso oggi pomeriggio, stasera, riporta in piazza gli imprenditori, i ristoratori, quindi alle 19.30 ci sarà un'altra manifestazione. Bisogna vedere adesso che hanno presentato una lista, se per esempio il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, tornerà a manifestare come fece qualche settimana fa, capito adesso che forse un po' queste manifestazioni, un intento politico verso le elezioni comunali del 2021, ce l'hanno. Bene, vediamo che colore saremo, aspettiamo le prossime ore, la cosa più importante ovviamente è quella legata ai ristori e alle difficoltà che vivono queste imprese, sperando che davvero il 4 dicembre si possa tornare a cenare anche al ristorante. Grazie a tutti, buona giornata.